ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina qualche giorno fa avevo pubblicato il video delle padelle della cecotec oggi voglio mostrarvi questa che praticamente è una padella a grill si chiama polka excellence 28 da 28 grill force se vi ricordate nel video precedente delle tre padelle quelle da 20 24 e 28 ho parlato di tutto e vi avevo fatto vedere anche appunto l'estetica bene questa è un'altra padella uguale a quella però è una griglia un grill quindi andrà a grigliare i vostri alimenti adesso vado a togliere questa guardate che bella è abbastanza grande quindi potete mettere tutti gli alimenti che volete anche questa come le padelle a un rivestimento antiaderente di alta qualità è elaborata in un alluminio fuso sempre di alta qualità ed è anche questa è resistente alle deformazioni il suo rivestimento è in teflon è lavabile anche questa in lavastoviglie e si adatta ad ogni tipo di cucina quindi inclusa anche quella di induzione il fondo come potete ben vedere ha un rialzo di 5 mm come spessore ed è formato dai 6 strati per una resistenza e durabilità anche nel tempo il suo rivestimento antiaderente permette inoltre a non fare attaccare i vostri alimenti quindi potete stare sicuri al cento per cento che non si attaccheranno qui ma praticamente anche se non mettete l'olio non si attaccheranno mai quindi adesso la vado a provare insieme a voi ovviamente e vedremo la sua funzionalità potete farvi un set completo tra le padelle è questa e più avanti poi vi mostrerò anche un pentolino sempre della cecotec che mi è arrivato e che è veramente eccezionale verrete sotto nell'info box il link dove poter acquistare sia questa qua e sia il set delle padelle adesso la vado a provare quindi la faccio riscaldare facendo la fiamma in questo modo e dopo di che vado a mettere delle bistecche di maiale bene la griglia si è riscaldata vado a mettere un pochino di sale e ad agio la carne so un altro po di sale sopra e lascio cuocere la carne vi voglio far vedere che la carne non si attacca alla griglia vedete guardate queste padelle della cecotec sono eccezionali ve li consiglio davvero troverete sotto nell'info box il link dove poterla acquistare li ho appena girati adesso li faccio cuocere anche dall'altro lato il video termina qui se avete piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale condividete il video con tutti i vestimenti e farendi e se vi va lasciate anche un bel commento noi ci vediamo al prossimo video